attenzione questo video fa parte di una serie per vedere gli episodi precedenti cliccate nella i in alto a destra sì 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 è pulito più pulito di primo sicuro partiamo da questo bellissimo posto prima tappa far benzina poi tutta autostrada per tagliare via firenze e arriveremo in zona massa carrara in quella zona lì ci fermeremo lì per la notte adesso tutta autostrada arriviamo proprio direttamente all'area sosta per il camper allora praticamente abbiamo raggiunto questo questo posto che sarebbe l'ultimo qui dormiremo perché poi domani torneremo a casa è praticamente un deposito barche ed è anche il più costoso in cui abbiamo dormito allora siete andate troppo avanti ma a guardare i cartelli che ci sono sul lato stronzo mettetevi in mezzo alla strada un'altra volta non vi ho visti no ok sono arrivate sono parcheggiate adesso io cercherò di andare là senza scaricare la giacca pensavo fosse più difficile invece ci sto riuscendo ops si è scaricata mi rimangio quello che ho detto del deposito barche grazie a tutti traduzione vendita lardo di colonnata madò che roba bianca ste montagne wow che blocconi cava romana primo secolo avanti cristo questa è colonnata bella la piazza di marmo tutta scivolosa si scivola un casino qua stiamo tornando giù da colonnata ci ha mangiato il panino con il lardo prodotto da loro qui a colonnata per modo particolare di fare il lardo praticamente fanno un aspetto di sarcofago di marmo ci mettono dentro tutto il lardo con sale e spezie e così viene fuori sto lardo particolare buonissimo e qui in sostanza ci sono due cose il lardo e il marmo il marmo e il lardo vuoi mangiare qualcosa c'è il lardo vai in un negozio lardo vabbè no vendevano anche altre cose però è il paese del lardo vabbè adesso torniamo giù a Carrara e andiamo a fare il giro delle alpi apuane e andiamo a fare il giro di marmo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E siamo arrivati al camper Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti